Sono più di 30 i chilometri che separano la State House di Entebbe dal santuario di Mugnogno, costruito sul luogo dell'uccisione dei primi quattro martiri ugandesi nel maggio del 1886 e sono decine di migliaia i fedeli che accompagnano con il loro entusiasmo Papa Francesco lungo il percorso, ormai al buio di una tiepida serata africana. A Mugnogno fu fatto a pezzi per volere del Rem Vanga II Sant'Adrea Kagva, a causa della sua fede e oggi è il patrono dei catechisti e degli insegnanti ugandesi. Qui il Pontefice ne incontra più di 4.000 e li ringrazia per i sacrifici che fanno con le loro famiglie per portare la buona notizia del Vangelo ad ogni villaggio e casolare dell'Uganda, specialmente per il fatto di insegnare ai bambini e ai giovani come pregare. Anche quando il compito appare gravoso, aggiunge Papa Francesco, vi farà bene ricordare che il vostro è un lavoro santo e il vostro messaggio si radicherà più profondamente nei cuori delle persone, tanto più sarete non solo dei maestri ma anche dei testimoni. Sull'esempio dei martiri ugandesi che versarono il sangue per rimanere fedeli, a ciò che sapevano essere buono, bello e vero. E grazie alla loro coraggiosa testimonianza, conclude il Papa, Rem Vanga non riuscì ad eliminare i cristiani dell'Uganda, perché questi divennero ancora più convinti delle promesse di Cristo.